Circo l'anno fa ho avuto una proposta della professoressa Sabine Almano, la scelte dell'Accademia di Melle Arte, di presentare un appinamento al Versace e il Montantino. Mi sembrava abbastanza naturale perché tutta la produzione di Versace è ispirata a tutte le maschere di buoni, ma anche i meaggi che decorano, per esempio, i vasi e un tanto di strumenti generali, inizio, è fortemente radicata nei valori e nelle espressioni più relative dell'antichità. Ed è per questo che ci è sentato naturale ospitare questo evento, che è non solo una esplosione di arte e un colloquio con la creatività, ma anche una maniera per aprirsi alla cittadinanza e per sì che tante persone venendo al museo non avvertano la distanza, ma avvertano l'attacco di un materiale particolare con quello che sta uniti da quest'anno.